Presidente Martorano, un primo tempo assenti, completamente in campo, si può dire un secondo tempo che avete tirato il meglio di voi fuori e avete ribaltato il risultato? Sì, guarda, abbiamo fatto un primo tempo che è stato uno scempio, i ragazzi proprio non siano entrati nel campo, onore anche al Melito perché ha fatto una bella partita al Melito, ma dei ragazzi sinceramente è una società da imitare, appunto tanto sui giovani hanno corso, hanno corso il primo tempo, i ragazzi del Melito hanno corso tanto onestamente, noi a livello di preparazione ormai sono le ultime partite quindi lasciamo un po' a desiderare, però il primo tempo ha meritato sicuramente il merito. Nel secondo tempo vuoi l'orgoglio dei ragazzi, vuoi la voglia di vincere perché oggi una vittoria per noi è fondamentale qua a Melito, hanno tirato fuori i classici attributi e siamo riusciti a ribaltare il risultato, diciamo ai punti forse meritano il Melito, però alla fine tre punti d'oro per noi che fanno classifica e fanno morale, dai, i ragazzi lo meritano. Guardando i risultati di oggi a noi manca un punto, l'ultima ce l'abbiamo in casa col Polistena, vediamo, ci proviamo, ci giochiamo la nostra partita, con un punto dovremmo essere salvi matematici, che come primo anno di società per noi è quasi una vittoria di campionato, considerando che siamo una matricola, quindi chiudere a 25-26 punti e salvarsi senza play out per noi è un buon risultato.